Ammonta 100.000 euro il contributo annuale deliberato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Biella a favore del Santuario d'Europa. Un impegno importante che ogni anno accompagna l'attività del Santuario, ne garantisce continuità e sicurezza d'azione e permette le molte azioni necessarie a mantenere e sviluppare il più importante Santuario Mariano delle Alpi. La Fondazione è da sempre al fianco del Santuario d'Europa che rappresenta un bene importante per la comunità biellese, ha commentato il presidente Franco Ferraris. Per la loro natura, strutture di questo tipo necessitano non soltanto di grandi investimenti in occasioni storiche, come la quinta centenaria in coronazione, ma di un'azione costante anno dopo anno. Per questo la Fondazione per Europa c'è sempre stata, ci sarà sempre, al fine di garantire la consegna di un bene intatto e sempre più valorizzato alle future generazioni. Un intervento dunque strutturale, quello della Fondazione, destinato a mettere in sicurezza l'operatività del Santuario e favorirne fruibilità e sviluppo. Ringraziamo la Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, commentano gli amministratori Giancarlo Macchetto, don Stefano Vaudano, per la vicinanza e per il supporto alle attività. Europa, che con il suo sacro monte è stata riconosciuta patrimonio dall'umanità, rappresenta per la sua eccezionalità un bene il cui valore è riconosciuto a livello internazionale.